E la parola adesso al vice sindaco del comune di Santa Lucia di Piave, Luca Bellotto. Buongiorno a tutti e benvenuti a Santa Lucia. Porto i saluti alle autorità civili e militari e ringrazio il governatore per essere qui. Permettetemi un paio di ringraziamenti a nome mio di tutta l'amministrazione comunale, all'amministratore unico, alla direzione e allo staff, a tutti i volontari che hanno reso possibile anche quest'anno questa fiera per la passione che ci hanno messo nell'organizzarla in tutto l'anno. Una fiera che come saprete viene fatta con risorse quasi interamente dell'amministrazione comunale di Santa Lucia. Vorrei ringraziare gli espositori e i visitatori perché se noi siamo qui è perché loro ci credono dopo 1.359 anni. Una fiera che io venivo quando ero piccolissimo e l'emozione di essere qui oggi è fortissima. Una fiera che ha saputo in questi 30 anni cambiare in maniera sconvolgente. Quando venivo con il nonno ricordo che lunedì io uscivo con l'asino da qui, con gli animali da qui, adesso non è più possibile. La tecnologia fortunatamente è avanzata e l'agricoltore ha capito che deve formarsi, deve innovare, deve investire soprattutto nel suo parco macchine e anche in un territorio perché le colline sono diventate patrimonio unesco e credo che la fiera quest'anno abbia voluto dare lustro anche a questo riconoscimento con le fiere del Piave, un padiglione dedicato al turismo. Fiera Santa Lucia vuole essere il luogo ideale per raccontare questo territorio non solo ai trevigiani ma a tutta la regione Veneto e all'Alpe Adria. Da sempre luogo di scambi questo territorio e il lavoro che stiamo facendo in questi anni è rivolto proprio a questo. A Santa Lucia mi piacerebbe che ci fosse un luogo di discussione in cui tematiche come l'ambiente e la sostenibilità siano messe a confronto con l'attività fatta in campo perché non dobbiamo dimenticare chi come voi ogni giorno si impegna per rendere migliore questo nostro ambiente. Volevo chiudere ricordando il casello di Santa Lucia di Piave anche al governatore che sicuramente lo sa bene. Credo un'opera di vitale importanza per il nostro territorio non solo per la fiera ma soprattutto anche per le colline del Prosecco. Immagino che se dobbiamo ospitare 500-600 mila persone avere delle infrastrutture comode per l'accesso a queste colline sia fondamentale. Forse qualcuno si è dimenticato in qualche cassetto però secondo me è giunto il momento di dargli una rispolverata. Alla fine non sono poi così tanti milioni il governatore ma secondo me è un'opera veramente vitale per tutta la sinistra Piave e per le nostre colline del Prosecco. Quindi grazie ancora, buona fiera a tutti e ci vediamo il prossimo anno.